Il re-insediamento è il trasferimento di gruppi di rifugiati da uno Stato in cui hanno inizialmente chiesto protezione a un altro Stato che accetta di ammetterli sul proprio territorio, garantendo loro uno status di residenza permanente. È difficile che un Paese sia tanto povero, tanto piccolo o tanto popoloso da non poter offrire una nuova vita ad un piccolo gruppo di rifugiati l'anno. Grazie